Ma devo solo fare una piccola premessa, non è vero guardate che di autonomia non si sta parlando in questo periodo, non ho portato qui con me gli articoli, che posso casomai leggervi i titoli delle ultime due settimane, articoli dove si attacca il regionalismo e si dice che il titolo quinto, cioè la riforma costituzionale approvata dopo vari passaggi in Parlamento, in Camera dei Deputati, al Senato e anche addirittura con referendum, deve essere modificata, questa riforma, la riforma di titolo quinto che è attaccata brutalmente in questo momento soprattutto dalla stampa e dei mass media che sono molto vicini al potere con la P maiuscola, questa riforma non è mai stata applicata perché è su questa che è nato il referendum del Veneto e su questa c'è la cherelle, la lotta fra Regione Veneto, Lombardia e Emilia Romagna col governo per avere riconosciuta quella autonomia cosiddetta differenziata di cui a quel titolo quinto che ancora non è stato applicato, quindi vorrei solo far notare, lo dico proprio con grande dispiacere collegandomi a quello che diceva il professor Lottieri sul passato della libertà, l'indipendenza, i risorgimenti del nostro paese, di tutto il territorio italiano, che avere uno Stato che non sta applicando la Costituzione e addirittura avere attualmente un governo che vuole modificare il titolo quinto appena modificato e approvato con quel referendum nazionale, quello del 2001, non il referendum del Veneto, è secondo me un atto gravissimo che va contro la democrazia, contro la libertà in questo paese, quindi lo vorrei mettere in evidenza prima di rispondere puntualmente alla domanda, per rispondere alla domanda io dico solamente questo, la riforma, l'autonomia, il federalismo è semplicemente dare chiari competenze, chiari poteri a diversi livelli di governo, è come si fa in un'azienda, lo Stato è una grande azienda, il cittadino ha bisogno di avere ottimi servizi perché paga tante tasse, quindi se il cittadino ha davanti delle persone responsabili per quella pratica di cui ha bisogno, le quali non rimandano ad un altro livello di governo ma sono loro responsabili, quel cittadino sarà alla fine contento, sarà felice di avere avuto una risposta. Allora bloccare la riforma di una razionalizzazione, di una modernizzazione del nostro sistema vuol dire non voler dare servizi ai cittadini, questo è un altro fatto gravissimo, il secondo fatto molto grave è che nel momento in cui tu puoi controllare dando dei servizi al cittadino l'effettiva efficacia di questo sistema nuovo di governo, che cos'è che crei? Crei ancora debito pubblico e il debito pubblico è il più grande nemico dell'economia, oggi se noi non avessimo il debito pubblico accumulato da tanto centralismo di questi anni, noi avremo la possibilità come la Germania di aiutare veramente le imprese che sono colpite dal dramma delle Covid e di tutto quello, invece non lo possiamo fare perché abbiamo un debito pubblico pazzesco e dobbiamo andare a chiedere la carità agli altri stati europei per riuscire a far fronte a questa situazione difficilissima. Perché ci sono delle regioni che spendono di più di quello che è in casa. E la cosa più assurda, e qui chiudo, ma vi rendete conto, questi vogliono bloccare la riforma del titolo quinto che ha dimostrato che in alcune regioni l'autonomia differenziata provoca delle eccellenze a differenza di altre e magari portarci tutto a livelli della sanità calabrese dove lo Stato, che è lui responsabile di quella sanità perché è lui che sta mandando i commissari, i commissari vengono nominati dallo Stato e non sono in grado di risolvere i problemi della sanità calabrese mandando i commissari, ed è un disastro, quindi non so, vogliono portarci a quel livello lì? La domanda è questa, quindi io se fossi anche un paese partner dell'Unione Europea e vedessi questo disastro che vogliono combinare, comincerei a dirmi, ma l'Italia vuole ancora pervicacemente continuare con questo debito pubblico, con questa finanza allegra, buttando via i denari di regioni virtuose e magari costringere queste regioni virtuose ad abbassarsi al livello di quelle meno virtuose, perché alla fine succederà questo, se noi blocchiamo il regionale della modalità differenziata, prepariamoci cari veneti, cari emiliani, eccetera, è propedeutico, è l'inizio per andare tutti verso il basso, non andare verso l'alto, altro che l'attività di impresa, come qui abbiamo un grande imprenditore vicino a noi, Roberto Brazzale, è il contrario dell'attività di impresa, è la distruzione dell'economia.